Ben trovati a tutti, siamo giunti a questo nuovo appuntamento all'interno di questo percorso sul nostro lesson plan a misura di cervello, oggi ci occuperemo in particolare delle altre due fasi lesson plan, la volta scorsa abbiamo visto la fase 1 e la fase 2 e mentre oggi ci concentreremo sulla fase 3 e la fase 4. Naturalmente insieme a me ormai i consueti accompagnatori di questo percorso potete vedere Andrea Tinterri che è il nostro neuroscienziato di riferimento specializzato in neuroscienze ma anche in molto altro, poi c'è Beatrice Aimi, dirigente scolastico ma anche assegnista di ricerca per l'Università di Parma presso il Future Education of Modena, esperta anche lei di neuroscienze e psicologia cognitiva, abbiamo la mia collega Laura Cesaro, insegnante della scuola primaria e ovviamente molto molto digital e poi ci sono io, Daniela Di Donato che mi vedete qui insomma come Learning Science Expert di Future Education Modena però sono un'insegnante della scuola secondaria e naturalmente tutti noi appassionati di digitale e di cervello in questo momento. Allora vediamo un po' il percorso che faremo oggi insieme e come sempre vi mostriamo la nostra timeline per capire a che punto siamo arrivati, oggi vogliamo parlarvi di ciò che facilita e promuove l'apprendimento, il nostro percorso è iniziato, siamo già al quarto incontro e lo faremo insieme naturalmente sia ad aspetti teorici che a aspetti pratici, quindi vi chiediamo per esempio di rispolverare se l'avete tenuto in disparte da un po' di tempo il vostro account Twitter perché potrebbe essere utile per fare un'attività che vi proporremo. Ecco qui, questo è il nostro modello di lesson plan che è insomma compatibile con quello che l'evidence based education ci dice riguardo alla mente che impara, siamo appunto nella fase prime time, anzi scusate, elaborazione, quindi la terza parte del nostro lesson plan, elaborazione attiva e l'ultima parte, quella che va a chiudere il lesson plan, cioè il prime time 2. Esatto, allora prendo io la parola, grazie Daniela per l'introduzione, quindi ripartiamo da qui, partiamo esattamente dall'idea di approfondire oggi quella parte che riguarderà, che riguarda il consolidamento dell'informazione e quindi come facilitare un apprendimento profondo e duraturo e significativo. Lo affronteremo come al solito partendo dalla prospettiva neuroscientifica. Allora, se chi di voi già chi conosce, chi ha fatto con noi questo percorso, riconoscerà questa diapositiva che è quella ricorrente, è il nostro grande mantra, questa diapositiva ci dice che cosa? Lo rivediamo molto velocemente, che l'informazione passa dai sensi, quindi dalla memoria sensoriale, arriva come primo step in memoria di lavoro e solo successivamente, forse, se lo siamo detti tante volte, passa in memoria a lungo termine dove può dar luogo ad apprendimento e quindi a memorizzazione duratura e quindi neuroplasticità. Ecco, oggi ci concentreremo in particolar modo sul concetto di neuroplasticità e vedremo che cosa è e vedremo che sono esattamente tre i processi su cui oggi focalizzeremo la nostra attenzione e che sono alla base, sono processi cognitivi che sono alla base dello sviluppo della neuroplasticità. Questi processi sono il rehearsal, il retrieval e il transfer. Li teniamo in inglese perché non hanno esattamente una definizione, diciamo, con un'unica parola del corrispettivo inglese. In realtà per noi sono più un concetto, vedrete che comunque impareremo a conoscerli e quindi ci perdonerete se usiamo questo inglesismo, ma alla fine risulta più semplice considerare, diciamo, il termine inglese rispetto al concetto molto più ampio che invece è espresso dalla lingua italiana. Allora, io direi di partire dicendo che cos'è la neuroplasticità. La neuroplasticità è, come la intendiamo adesso in maniera molto molto semplicistica ovviamente, può essere, come vedete, relativa a due fatti o al consolidamento di vecchi e nuovi circuiti. Quindi un circuito quando è, diciamo, poco consolidato è abbastanza debole, tenete presente la metafora magari di un muro che è poco cementificato, viceversa quando l'informazione, quindi l'apprendimento è consolidato, lo stesso circuito viene grandemente rinforzato. Oppure il concetto di neuroplasticità si ha anche quando si costruiscono addirittura dei nuovi circuiti. Quello che ci interessa sottolineare è che, e poi ce lo spiegherà più avanti Daniela, in maniera un po' più dettagliata, come la neuroplasticità sia un processo che, guardate, uno dei pochissimi processi biologici che attraversa la vita di un individuo dalla nascita alla morte. Questo ci dice quanto da un punto di vista evolutivo sia un processo molto molto importante. Infatti possiamo dire che ciascuna esperienza, ciascuna lezione, ciascuna lettura modifica le nostre reti neurali in maniera più o meno forte e duratura. In ogni caso crea neuroplasticità. Oggi il webinar che facciamo in qualche modo crea all'interno del nostro cervello dei circuiti, delle connessioni che vanno in qualche modo a integrare alcune conoscenze già esistenti e quindi a consolidarle. La slide mostra un'immagine di una palestra e quindi usa l'imilitudine dell'allenamento, non perché ovviamente più si il cervello più aumenta il numero dei neuroni, che come sappiamo tutti invece non è così. Il tessuto nervoso è un tessuto perenne, a parte qualche zona in cui solo recentissimamente è stata osservata neurogenesi, però insomma generalmente è un tessuto che non si riproduce, però non aumenta il numero dei neuroni, ma aumenta invece la loro dimensione, le loro connessioni e la capacità di formare reti complesse, proprio a indicare il fatto che si crea appunto questo famosissimo concetto che ha una grande enorme potenzialità anche in ambito educativo. Quindi sintetizzando che cosa possiamo dire? Che quando noi pensiamo, sentiamo, ci muoviamo, facciamo esperienza tutte le volte, ogni cosa che facciamo crea in noi un'esperienza. Tutte le esperienze vengono registrate nel nostro cervello, tutte le esperienze vengono poi organizzate e processate, però in base, l'avevamo vista anche nei webinar precedenti, a delle priorità che sono il valore, il significato e la rilevanza dell'informazione stessa per il soggetto. Questo comporta l'attivazione di numerosi neuroni che si collegano tra di loro attraverso segnali elettrici e chimici, formando delle connessioni dei circuiti che sono rinforzati dalla ripetizione, ma anche dal riposo, l'avevamo visto anche in una delle volte precedenti, e dalle emozioni e anche questo l'abbiamo visto e trattato abbondantemente. In questo modo si forma neuroplasticità. Adesso lascio la parola a Daniela che ci illustrerà il legame tra neuroplasticità e intelligenza, che è un concetto molto interessante. Allora, dunque, abbiamo scoperto quindi che il nostro, la nostra intelligenza non è tanto una sola intelligenza, ma ci sono varie intelligenze, ce l'aveva anticipato Gardner in tempi non sospetti, quando ancora le ricerche neuroscientifiche non erano arrivate a confermare questo tipo di teorie. Possiamo passare alla slide successiva. Un altro personaggio molto importante nello scenario della psicologia cognitiva, dello sviluppo e della psicologia educativa è Ruben Feuerstein, che è stato uno psicologo israeliano clinico dello sviluppo cognitivo, nato nel 1921, quindi ha fatto anche la seconda guerra mondiale, fu internato in uno dei campi di concentramento, fu allievo di Piaget, che molti di voi ricorderanno, insomma, tra i più importanti pedagogisti del XX secolo, che cosa disse Ruben Feuerstein molti anni prima che i neuroscienziati ci avessero dato tutte le informazioni che abbiamo adesso, disse esattamente la stessa cosa, cioè ipotizzò la plasticità del cervello umano e applicò alcune teorie già derivate da Piaget ai bambini che erano sopravvissuti ai campi di concentramento e che naturalmente avevano una motivazione all'apprendimento ridotta a zero, quindi avevano bisogno proprio di avere un supporto e una restituzione di capacità, una riattribuzione di capacità. Da questa sua esperienza nasce un metodo, un metodo appunto Feuerstein, dato anche programma di arricchimento strumentale, perché Feuerstein ebbe l'intuizione non solo di pensare alla plasticità neurocerebrale, ma anche a come riuscire a rendere sempre più plastico e quindi anche sbloccare alcune rigidità nei ragionamenti, nei comportamenti e negli apprendimenti di bambini ed adulti. Questo programma di arricchimento è abbastanza superficiente scoprire quanto sia simile come step agli step che poi i neuroscienziati, e l'abbiamo visto anche nel precedente webinar, hanno rilevato come fondamentali nell'apprendimento, quindi l'attenzione, la memoria, la capacità di risoluzione dei problemi, l'orientamento nello spazio e nel tempo, il potenziamento delle funzioni esecutive e le abilità emotive relazionali, quindi tutto era già stato in qualche modo immaginato e i neuroscienziati hanno dimostrato questa teoria. Il programma di arricchimento strumentale è l'unico programma tra l'altro che si avvale di strumenti, ci sono proprio delle specifiche schede e specifici percorsi che Feuerstein mette in mano non solo agli insegnanti, perché naturalmente c'è un percorso di formazione che si può fare per diventare mediatori con questo metodo, ma anche ai terapisti. Questo metodo viene anche applicato per esempio per potenziare le capacità anche di figure di responsabilità come manager, direttori d'azienda, quindi non solo con i bambini che hanno difficoltà o che vogliono lavorare sulle proprie funzioni e abilità, ma anche proprio come strumento di consolidamento e di potenziamento. Insomma, abbiamo scoperto che anche l'intelligenza è fluida, quindi non dobbiamo pensarci mai in maniera eccessivamente rigida e questo io lo dico sempre vale anche a tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti che hanno per esempio delle disabilità, ciascuno ha comunque una potenzialità che può sviluppare con i giusti strumenti, con i giusti tempi e quindi come insegnanti e come esperti dell'apprendimento dobbiamo conoscere quali sono le migliori strategie per poter riattivare la plasticità neurocerebrale, cosa che è possibile fino all'ultimo giorno di vita. Ruben Feuerstein ce l'ha un po' dimostrato perché è nato nel 1921 ed è matto nel 2014, quindi insomma quasi centenario con ben otto figli, quindi una famiglia numerosa e ha diffuso il suo metodo in tutto il mondo, quindi insomma lo ha dimostrato continuando ad imparare fino all'ultimo giorno di respiro. Sappiamo quindi oggi, e questo è una competenza dalla quale non si può tornare indietro, che tutti quei fattori che sembravano essere invece così preponderanti prima di tutto il filone di ricerca neuroscientifica, cioè fattori genetici, ereditari oppure altri tipi di fattori, non sono così determinanti nella costituzione delle nostre intelligenze, mentre l'ambiente di apprendimento, gli stimoli esterni, i percorsi sono invece molto importanti per sviluppare la plasticità neuronale, quindi avviare degli sviluppi cognitivi significativi in tutti, ma soprattutto in qualsiasi momento della nostra vita. Esatto, e quindi, dato che è così importante questa neuroplasticità, per tutte le ragioni che ci siamo detti fino adesso, allora come possiamo a scuola e comunque in ambito educativo, in ambito formativo, andare a svilupparla questa neuroplasticità? Partiamo con il rehearsal, questo processo cognitivo, per poi vedere il retrieval e il transfer. Allora, che cos'è il rehearsal? Il rehearsal potremmo interpretarlo come un processo di elaborazione dell'informazione. Gli scienziati, gli studiosi ne descrivono due, un processo che è automatico di elaborazione dell'informazione e un processo che invece è più attivo. L'elaborazione automatica ovviamente è quella che è rutinaria, è quella che conosciamo molto bene a scuola, no? Fatta di eventi, date, fatti, è diciamo ovviamente, grazie a Dio, non frequentissima, ma tuttavia è abbastanza presente nelle nostre classi quando e dove il modello prevalente è quello della spiegazione frontale, dell'elaborazione da parte del soggetto piuttosto automatica e rutinaria e ripetitiva e poi dalla riproduzione di quanto il soggetto ha imparato individualmente a casa all'insegnante e tanto più questa riproduzione è fedele, tanto più il voto dell'insegnante è elevato. Allora, questo è un modello che è ovviamente ormai abbastanza in crisi, ma che tuttavia continua a essere presente nelle nostre aule, ma la scienza ci dice che non è il modello più efficace per imparare. La modalità più efficace per imparare è quella invece di utilizzare un'elaborazione attiva dell'informazione, cioè lasciare spazio agli studenti durante la lezione, quindi non delegandolo a casa questo spazio, ma durante la lezione e le lezioni per guidare quindi gli studenti e proporre loro, facilitare loro appunto una attivazione e una quindi elaborazione attiva dell'informazione, quella che gli studiosi definiscono come rehearsal. In questa diapositiva viene illustrato quello che vi dicevo poc'anzi, cioè il fatto che in una ricerca condotta internazionale su più di 3.400 scuole superiori, il 55% dei docenti utilizza la lezione frontale e la utilizza per metà o tre quarti del tempo per trasmettere dei contenuti non è una lezione efficace. Non stiamo dicendo che la lezione trasmissiva e frontale è da bandire, assolutamente no, anche Gionassi citato dalla collega Laura nel webinar precedente lo sottolinea, l'importante è che la lezione sia condotta in una modalità dialogica, socratica, l'interactive lecture. In questo modo quando lo studente è sollecitato a elaborare, quindi a costruire attivamente la propria conoscenza, questo è un modo per affrontare efficacemente l'apprendimento e per renderlo diciamo duraturo e consolidarlo. Quali sono qui però le strategie pratiche da utilizzare in classe per diciamo fornire occasioni di apprendimento attivo e quindi di elaborazione attiva? Laura ce le vuoi illustrare? Sì allora io ho preparato una carrellata di alcuni strumenti che noi possiamo usare appunto per questo processo di elaborazione attiva in cui a chi impara viene proprio chiesto di ripensare a quanto ha sentito, a quanto ha letto, a quanto ha visto per ricordarlo e per interiorizzarlo quindi per poter fare quei collegamenti e quelle associazioni che sono necessarie per attribuire un significato a un determinato contenuto. Quindi come possiamo noi docenti guidare e proporre attività che sostengano i ragazzi nel processare poi il contenuto dell'apprendimento in autonomia però perché non possiamo sostituirci a loro. Una strategia è quella di parafrasare riformulare ma chiaro che se noi diciamo ai ragazzi beh adesso scrivetemi un riassunto quello che abbiamo appena detto molto probabilmente non hanno nessun interesse e non suscitiamo neanche nessun tipo di motivazione all'apprendimento ma se invece proviamo ad usare strumenti che sono più vicini al loro vissuto come per esempio scriviamo in un tweet quello che ci ha colpito di più di quello che abbiamo sentito fino adesso ci prendiamo un attimo di pausa e lo scriviamo dentro un tweet. Chi ha twitter può anche già da scrivere in 140 caratteri o anche usando possibilmente almeno uno di questi hashtag io ne ho messi tre BBTT a misura di cervello e ho controllato prima a misura di cervello non c'è tra gli hashtag di twitter quindi se noi poi andiamo a vedere a cercare quali sono i messaggi che contengono a misura di cervello avremo anche la ricostruzione di quello che noi stiamo dicendo che voi state recependo in questo momento e quindi potremmo creare lo stream dei commenti diventa una tag board in questo modo in cui tutti contribuiscono a costruire la conoscenza riguardo a quello che stiamo dicendo in questo momento e quindi noi utilizzando twitter o utilizzando poi anche lo vediamo dopo altri strumenti come potrebbe anche essere un semplice publet possiamo creare un meccanismo di retroazione che permette uno scambio anche in tempo reale fra gli studenti non solo fra di noi ma anche fra gli studenti quindi usiamo un modo diverso possiamo anche con i più piccoli che non hanno twitter chiedere di scriverlo il twitter sul tweet sulla carta non è necessario per forza avere poi lo strumento oppure più piccoli possiamo anche dire ok adesso ci fermiamo un attimo e di quello che abbiamo detto mettete giù tre parole chiave che diventano i nostri tre hashtag da ricordare quindi la tecnologia serve ma a supportare è più una questione di processo che di utilizzo vero e proprio della tecnologia oppure un'altra cosa che potremmo provare a fare sempre per di per farafrasare riformulare ridire gli argomenti con le con le nostre parole potremmo usare anche l'idea della citazione e io qui vi ho solo messo al titolo di esempio tre strumenti online uno è adobe spark post l'altro è canva che sono un po più complessi ma sotto ve ne ho messo un altro che si chiama uocchio e si trova se Beatrice va avanti c'è proprio una slide c'è un sito che si presenta in questo modo uno può fare login e quindi poi può condividere la citazione su facebook ma può anche semplicemente scriverla questa citazione scrivere chi l'ha detta e scegliere uno sfondo un background viene reso in maniera grafica anche senza fare il login e quindi magari anche per i bambini più piccoli possiamo dire scrivete voi la vostra citazione poi fate un bello screenshot e lo condividiamo nella classroom o lo condividiamo con con altri strumenti perché i social è giusto che loro non li abbiano quindi però diventa un modo anche di far partecipare far rielaborare in una modalità vicina a loro e forse anche un po' diversa anche senz'altro diversa il contenuto di apprendimento quindi se volete sperimentarlo vi è proprio sufficiente andare su qozio.com e scrivere la vostra citazione poi se volete condividerla anche nella classroom o attraverso facebook poi noi magari andiamo a vedere su in questo caso non abbiamo modo di controllare ma su twitter se ci sono tweet con misura di cervello invece lo possiamo vedere lo possiamo restituire anche nella classroom. No, potete anche sottolineare lo spazio Q&A se volete mettere lì i vostri hashtag con il vostro messaggio poi noi magari li recuperiamo e li possiamo postare noi nel nostro account twitter oppure condividerli nello spazio facebook o nella classroom tra l'altro aggiungo mi permetto di aggiungere che queste attività di rielaborazione possono essere fatte anche bene che siano fatte non solo individualmente durante la lezione ma soprattutto nel lavoro cooperativo quindi magari facendo lavorare gli studenti in coppia o in in piccoli gruppi e con strumenti digitali o anche con strumenti assolutamente analogici quindi carta penna diciamo. Sì esatto carta penna è anche una delle soluzioni che proporrò tra un attimo intanto vi mostro quello che è la mia citazione che vorrei portarmi a casa oggi ed è questa qui se ascolto dimentico se vedo capisco se scrivo ricordo e poi insomma il cane chiamava il ciao belli perché Sotto vi ho messo anche il sito che io ho utilizzato dove si forniscono già le immagini ma questo è complicato perché richiede di abbinare un'immagine con del testo e quindi va bene magari per i ragazzi un po' più grandi per i più piccolini anche no. Poi altre strategie che possiamo avere sono quelle della proporre anche richiedere alla fine di un contenuto che cosa alla fine di un contenuto che cosa parleremo la prossima volta proviamo a dirlo prima a vedere in anticipo quale sarà il contenuto della prossima lezione. Quindi questo è anche un modo per attivare le conoscenze progresse degli alunni e innescare poi il chiaramente il processo di apprendimento più profondo. Si può fare o utilizzando questi strumenti che abbiamo già visto in altri webinar quindi con Diary School o con Mentimeter o con Poll Everywhere sono tutti strumenti di interazione di sondaggio sostanzialmente sondaggio online. Possiamo anche usare un modulo di Google per raccogliere le risposte ma anche più semplicemente con dei fogli di carta con le scritto, le lettere belle grandi A, B, C, D in cui noi proponiamo quattro risposte e se abbiamo la nostra schermata con i ragazzi a casa possono alzare il loro striscione. Daniela se hai quello di prima puoi anche farcelo vedere magari che era tanto carino che mai ecco non so se vedete Daniela e ci vuole tanto bene lo sappiamo grazie anche noi te ne vogliamo Dani e comunque appunto loro possono mostrare la loro risposta anche fatta di carta anche senza bisogno di un clicker online o di uno strumento che sia online. Un'altra strategia che noi possiamo usare è quella di imporre le domande quindi che domande vi vengono rispetto all'argomento che abbiamo appena trattato perché questa strategia sviluppa abilità di pensiero elevato quindi analisi, valutazione, creazione. Io per fare la domanda devo avere un contenuto su cui esprimere la mia domanda e infatti anche vi riporto una esperienza personale. La mia figlia all'università diceva ma io nella chat adesso che stiamo facendo le lezioni online non so mai cosa scrivere perché magari quelli più bravi scrivono già tutto loro e quindi a me sembra che non ci sia più niente da dire perché evidentemente quelli che sono un po' più veloci nell'apprendimento hanno già tanto contenuto su cui porre domande e agli altri non resta niente. Quindi anche di questo un attimo dobbiamo prestare attenzione e quindi possiamo usare strumenti come per esempio Padlet che consente di mettere la domanda ma che sia l'insegnante a moderare la risposta. Quindi prima di pubblicare le risposte di tutti aspetta che ognuno abbia dato il suo contributo, che ognuno abbia posto la sua domanda o che ognuno abbia espresso la sua idea, la sua opinione. Un secondo per agganciarmi al discorso dei tempi, proprio del rehearsal che mi hai dato un modo di ricordare questa cosa. Ci sono numerosi studi che confermano il fatto che l'elaborazione attiva è un processo che ha dei tempi differenti, può avere dei tempi differenti tutti legittimi da studente a studente. E' quello che dicevi di tua figlia, ci sono quelli più veloci e quelli meno veloci. In classe questo dobbiamo tenerlo in considerazione perché non tutti gli studenti hanno i medesimi tempi, né per il rehearsal né per il retrieval che vedremo tra poco. Quindi è assolutamente importante concedere i tempi giusti perché ciascuno possa esprimere la propria opinione e quindi possa poter elaborare l'informazione. Bene, grazie Bea. L'ultima slide di strumenti sono gli organizzatori grafici, cioè un KV come quello che abbiamo usato nel primo nostro incontro. Là l'abbiamo fatto con tablet, possiamo farlo con storyboard, possiamo farlo con un modulo di Google, possiamo farlo in vari modi. Non è importante lo strumento ma è importante quello che noi andiamo a chiedere ai ragazzi. Quindi tutte queste sono strategie di ripetizione elaborativa e quindi in qualche modo aiutano i ragazzi a ritenere e a esprimere quello che hanno imparato. Non solo i ragazzi a dire la verità, anche gli adulti, anche noi in condizioni di apprendimento, quando siamo in condizioni di apprendimento e cioè per tutta la vita sostanzialmente. Quindi queste strategie vanno usate in maniera continuativa perché diventi parte integrante del loro modo di stare in classe, di studiare e di confrontarsi anche magari con questi argomenti in modo di sciogliere un po' anche l'ansia da prestazione che invece viene quando noi andiamo a chiedere direttamente a loro. Se noi invece li alleniamo che ogni volta devono tirare fuori qualcosa di quello che hanno imparato diventa anche facilitante nella direzione dell'ansia che viene ridotta. E poi, come dicevamo prima, il tempo di lavorazione dei contenuti non è detto che tanto tempo serva, ma può servire il tempo differenziato a seconda degli studenti che abbiamo davanti. E con questo passo la parola a non mi ricordo chi. Grazie Laura e buongiorno a tutti. Continuiamo anche oggi il viaggio che abbiamo fatto attraverso questi webinar in come avviene il processo di apprendimento anche dal punto di vista del nostro cervello. Allora, spero, siete stati collegati e attenti nelle puntate precedenti, che vi ricordiate che abbiamo cominciato parlando di come le informazioni transitano dai nostri sensi alla memoria di lavoro e dei fattori, abbiamo parlato anche se purtroppo brevemente dei fattori che influenzano la prima parte del processo di apprendimento, quindi quello dell'acquisizione e dell'immagazzinamento di nuovi apprendimenti. Oggi ci occupiamo invece di quando le informazioni sono passate dalla memoria di lavoro alla memoria a lungo termine, ma anche quando questo è successo, diciamo, i nostri nuovi apprendimenti sono fragili e sono soprattutto sensibili ad essere dimenticati in un arco di tempo di giorni o settimane. E allora abbiamo cominciato a vedere oggi, parlando sino ad ora della pratica del rehearsal o elaborazione attiva, di come questa sia una di quelle strategie che permette di consolidare le informazioni generando degli apprendimenti duraturi. Adesso andiamo a vedere un'altra delle strategie che sono emerse negli ultimi dieci anni grazie a studi neuroscientifici che possiedono una grande efficacia nel consolidamento delle memorie e quindi nella capacità di apprendere nuove informazioni e custodirle per lungo termine all'interno della nostra memoria, del nostro cervello. Quest'altra strategia si chiama Retrival, non ha purtroppo una traduzione italiana, quindi come anticipava Beatrice ci riferiremo con il termine inglese, ma sostanzialmente, detto in due parole, è il fatto di richiamare alla propria mente senza una guida o un'anticipazione un'informazione che è già custodita nella nostra memoria. Infatti, come possiamo vedere sulla slide, mentre tradizionalmente ci si concentra soprattutto sulla parte dell'apprendimento che consiste nel apprendere nuove informazioni e quindi immetterle all'interno del nostro cervello, quello che gli studi scientifici ci hanno detto negli ultimi anni è che è altrettanto, se non più importante, rafforzare queste conoscenze una volta che esse sono transitate dalla nostra memoria di lavoro e dal nostro ipocampo, sono state mandate alla corteccia cerebrale dove sono divenute delle tracce mentali, ma queste tracce appunto sono ancora suscettibili di essere dimenticate col tempo. La pratica del retrieval, tra le altre, consente attraverso l'accesso a queste memorie di fortificare questi percorsi e quindi di renderli più stabili e meno suscettibili all'oblio. Lo studio del retrieval ha una storia abbastanza recente e abbastanza interessante. Sostanzialmente emerge da uno studio abbastanza sorprendente del 2011, pubblicato su Science, in cui un gruppo di scienziati metteva a confronto la pratica abbastanza comune di costruire delle mappe mentali, che è una strategia che viene usata comunemente, a partire però dalla visualizzazione del testo, oppure la pratica del ripasso di un testo, con il fatto di richiedere alle persone che avevano imparato qualcosa di tirare fuori queste informazioni senza nessun input, quindi con un grosso sforzo. La conclusione abbastanza sorprendente di questo studio è che quando agli studenti veniva chiesto di ricordare senza nessuna stampella, tra virgolette, le informazioni, il fatto di andarle a ripescare all'interno della nostra mente rendeva queste informazioni più consolidate di qualsiasi altra strategia di apprendimento. Il retrieval, per quanto possa sembrare controintuitivo, è infatti la strategia didattica più potente rispetto a quelle comunemente usate, che siano la lettura, la rilettura, la sottolineatura e la costruzione di schemi. A partire da questo studio seminale naturalmente ne sono stati fatti altri e per esempio si è visto sempre da parte dello stesso gruppo che invece l'uso di mappe concettuali a partire però senza il testo ma utilizzando il retrieval come base, quindi costruire mappe mentali tirando sempre fuori noi le informazioni, in realtà ha lo stesso effetto molto positivo sulla costruzione, sul consolidamento di memorie. Quindi fondamentalmente quello che si è scoperto è che l'importante è lo sforzo che si fa nell'andare a recuperare le informazioni all'interno della nostra mente. Adesso Laura ci presenterà alcuni degli strumenti che possono essere utilizzati per favorire questa pratica del retrieval. Uno strumento importante che noi possiamo utilizzare è quello delle flashcard, che non sono una scoperta nuova in realtà, esistono da parecchio tempo, ma nella versione online hanno delle funzionalità in più e delle potenzialità in più che possono aiutarci a motivare anche i ragazzi ad imparare. Per esempio io ho messo due più una, Quizlet che è una web app sostanzialmente in cui si può inserire un termine e poi la definizione del termine che verrà mostrata nella parte rovescia della carta, ma questa è la modalità tradizionale dell'uso. Però ha anche altre modalità in cui, data la definizione, si deve scegliere il termine corretto oppure l'esercizio termina quando viene risposto correttamente per almeno due volte, quindi c'è anche un rinforzo nella concettualizzazione. Poi chiede di digitare il termine data la definizione, poi chiede di abbinare come memory, poi c'è anche la modalità di gioco per cui i ragazzi sono sfidati da un gioco e questo avviene sia dentro Quizlet sia dentro Cram. Quindi sono due piattaforme in cui sostanzialmente ci sono modalità diverse di utilizzo delle flashcard, sia come uso comune per la memorizzazione che per il testo. Un'altra invece, un altro strumento molto più varico, molto più facile, ma anche molto più immediato è presente nei modelli delle presentazioni di Google, nella galleria dei modelli e ci dà sostanzialmente le slide che ci presentano da una parte l'immagine oppure la definizione e per l'altra noi dobbiamo inserire il contenuto della definizione sostanzialmente. Un'altra cosa che nelle slide non ho messo ma che secondo me è molto utile è anche quella di non secondo me, ve lo dico secondo me perché l'ho provato con i ragazzi, di far scrivere loro tre domande alla fine di una lezione, durante la pausa di una lezione, tre domande e tre risposte per sfidare i compagni. Se poi noi queste tre domande, tre risposte le carichiamo su un ambiente come CAUT o come QTIS che avete provato la volta scorsa, per sfidarsi a vicenda, vedrete che i risultati sono veramente molto molto adi. Quindi vuol dire che anche se loro hanno scritto le domande perché i compagni non le indovinino, perché noi volevamo farli sfidare tra di loro, vedrete che tutti mediamente risponderanno meglio alle domande, quindi vuol dire che tutti avranno imparato meglio i contenuti e quindi anche questa è una strategia che funziona perché l'abbiamo provata. E di altre cose eventualmente possiamo parlare nella classroom dove troverete anche delle pillole che hanno preparato Andrea e Beatrice sul punto che funziona la mente e che impara e che sono davvero molto molto interessanti e quindi vi invito a iniziare a trovare nella nostra classroom. Sì, aggiungo Laura solo una cosa, che le flashcards, che appunto significa utilizzare carte in cui da un lato c'è una domanda e dall'altro c'è la risposta, sono quasi univocamente da tutta la comunità scientifica. Avete detto, ritroverete nelle slide un link a un sito dove sono presenti molte di queste attività proprio perché è una modalità che permette il richiamo con lo sforzo, quello che diceva un po' Andrea, il fatto di non trovarsi davanti nulla ma di giocare, tra virgolette, con delle carte che peschi e quindi costringere in qualche modo la tua mente ad andare a cercare la risposta senza nessun appiglio è una delle modalità che mette insieme, diciamo, l'aspetto ludico della sfida che come abbiamo visto anche la volta precedente sono strategie sicuramente molto motivanti e ingaggianti con quella del retrieval. Quindi è davvero una modalità didattica molto molto potente. Brava Bea e mi sono dimenticato di dirlo che mentre molti dicono che con le flashcards di carta i ragazzi sono tentati di girare per vedere la risposta a far fatica in questo modo, in qualche modo, sono obbligati dal software a farla la fatica perché comunque non gliela dà buona, non gliela dà buona, non gliela dà il gioco per cui sono in qualche modo incentivati e costretti ad imparare. Esatto. Andrea, il transfert. Scusate, mi ero mutato. Volevo solo fare una chiosa finale sul retrieval prima di passare al transfer e dire che in realtà il retrieval è una cosa che si fa da sempre nelle classi. Se ci pensate, le famose verifiche, le famose domande, le interrogazioni sono una pratica di retrieval perché viene chiesto allo studente di punto in bianco di riportare alla mente le conoscenze. Allora, perché cambia la storia? Perché in questo caso il retrieval, quello che vi consigliamo, quello che le scienze consigliano di fare, è di non utilizzarlo però soltanto come uno strumento di valutazione, ma come uno strumento di apprendimento. Ci sono vari studi longitudinali che hanno mostrato che utilizzando per esempio il quitting, come quello che vi ha mostrato Laura, o altre strategie di questo tipo, lungo un percorso di apprendimento e senza necessariamente utilizzarlo come strumento valutativo, ma come strumento di apprendimento, i risultati sono estremamente efficaci, come vi hanno detto anche le mie colleghe. Passiamo adesso ad un altro aspetto molto importante che influenza l'apprendimento significativo e la plasticità neuronale, cioè l'aspetto del transfer. Con transfer si indica il momento del passaggio, l'applicazione dei concetti che arrivano alla memoria di lavoro, dai nostri sensi e dalle altre memorie che abbiamo immagazzinato nel corso della nostra vita, vengono messe a confronto con le nuove informazioni e assistiamo a una modifica di tutto quello delle nostre conoscenze precedenti in base all'arrivo di nuove informazioni rilevanti. Ora, queste nuove informazioni possono essere utilizzate non solo per ciò per cui erano utilizzate precedentemente, ma anche per altri usi, per usi futuri, potenzialmente applicando ad ambiti diversi. Esatto. In concluso questo, poi ti ridò subito la parola. Prima che tu passi alla spiegazione un po' neuroscientifica del transfer, volevo lanciare una sollecitazione, una riflessione agli insegnanti che ci stanno seguendo, perché questo è un concetto che appunto appartiene alle neuroscienze cognitive, alla psicologia cognitiva, ma in cui io ritrovo moltissimo il parallelismo con la competenza, con il concetto pedagogico di competenza, no? Perché la competenza, lo sappiamo, non è altro che l'insieme delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti che sono state imparate in un determinato contesto, ma decontestualizzate, possono aiutarci magari a risolvere problemi in un contesto totalmente nuovo. E si dice appunto che la persona competente è la persona che riesce a utilizzare questo bagaglio di informazioni in un contesto nuovo. Ecco, secondo me quello che fa la base, un po' quel discorso che faceva Daniela di Forestein, dove la pedagogia ha anticipato in qualche modo l'evidenza neuroscientifica, credo che la stessa cosa, questa è una mia personalissima interpretazione, ma credo che la stessa cosa vada fatta, possa essere detta anche qui, insomma, la pedagogia della competenza in qualche modo ha anticipato il meccanismo neurobiologico che stava dietro a questo tipo di processo. Ti rilascio la parola. Ok, allora, caratteristica interessante del transfer è quella che questo processo richiede sia un'attività, diciamo, che viene definita bottom-up, cioè di meccanismi cerebrali, di euristiche di apprendimento che sono codificate nel nostro cervello e delle quali non siamo coscienti, sia un livello di attività che invece viene definito top-down, perché dipende in parte dal nostro controllo cognitivo. Allora, partiamo da quello che avviene a livello, diciamo, bottom-up, dal basso. Quello che succede è che le nuove informazioni sono molto spesso molte, troppe per poter essere immagazzinate interamente e indiscriminatamente all'interno del nostro cervello. Per quanto esso abbia una capacità di memoria a lungo termine, dicevamo negli appuntamenti precedenti, praticamente illimitata, la capacità invece limitata della nostra memoria di lavoro forma un importante collo di bottiglia alla quantità di cose che possiamo imparare nel corso della nostra vita. E allora qual è lo strumento che il nostro cervello ha imparato ad utilizzare per massimizzare la quantità di informazioni che possiamo apprendere? Si tratta di un processo che viene definito chunking. Un chunk, sostanzialmente, è un insieme di informazioni che vengono compresse con un paragone informatico, potremmo quasi definire zippate, a formare una sola unità. Allora, un esempio che si fa molto spesso è quello dei, per esempio, dei numeri di telefono, che ogni intero numero di telefono è nove cifre. Se lo si considera cifra per cifra è molto difficile da apprendere a memoria, ma se come fa la maggior parte di noi lo si scorpora in una serie di cifre 3 per 3, diventa più semplice da imparare. E questo insieme di tre cifre, tipo 3, 4, 7, diventa più facile da apprendere. Quello che avete appena fatto unendo tre cifre del numero in una sola unità informativa è un chunk. Ora, una volta che questi chunk di informazione sono creati, essi sono inviati alla memoria a lungo termine, che, come dicevamo, ha una capacità quasi infinita. E adesso, per il transfer, però, dobbiamo essere capaci di prendere questi chunk preesistenti e di applicarli a nuovi contesti. E a questo serve, invece, il nostro controllo cognitivo che determina le nostre capacità di problem solving, la nostra capacità creativa. Vuol dire che quando un chunk è stato creato, esso può anche essere scorporato e può essere integrato da nuove informazioni e o applicate a nuovi contesti. Mi rendo conto che questa spiegazione è un po' astratta, ma adesso vedremo un po' più nel dettaglio come si può favorire questa proprietà di chunking, perché questo processo, come detto in precedenza, è forse lo strumento più potente che abbiamo, lo strumento nel quale si manifesta nel massimo livello la nostra capacità plastica, propria della nostra specie, di applicare a contesti diversi le nostre conoscenze e di utilizzarle per creare nuove cose, per creare innovazione e per risolvere problemi complessi. Scusate, finisco io questa parte. Il transfer, come dicevamo, non è un processo semplice e non è un processo automatico. Lo potremmo definire quasi un punto d'arrivo, un desiderata per chi insegna. Perché questo è necessario, siccome richiede un controllo, dicevamo, top down, siccome richiede un controllo dall'alto, un controllo, tra virgolette, volontario, è necessario che gli studenti, che gli studenti vengano insegnati ad utilizzarlo, ponendoli in delle situazioni che gli consentano di accedere alle loro memorie pregresse e di utilizzarle per nuovi contesti. Per esempio, quello che si propongono di fare i compiti, il problem based learning, il inquiry based learning, tutte queste strategie, quello che fanno è esattamente questo, di prendere delle informazioni preesistenti e attraverso un'attività di riflessione, investigazione, applicazione a nuovi concetti, eccetera, favorire la pratica del transfer e di per sé veicola, è uno strumento che applica quelle che vengono definite le soft skill o le skill del ventunesimo secolo. Se Beatrice vuole commentare su questo aspetto. Sì, grazie Andrea, esattamente. Sappiamo che esistono delle pratiche didattiche, delle metodologie didattiche che pongono l'alunno in situazione, in situazione nuova, in situazione di contesto e possibilmente in situazione di contesto reale, no? Esattamente queste metodologie, tipo il problem based learning, ma anche il project based learning, l'inquiry based learning, sono tutte strategie didattiche di lezione. Perché? Perché in qualche modo costringono lo studente a fare tutti e tre i processi che abbiamo visto fino adesso. Sicuramente a fare un'elaborazione attiva che è quella che ci permette, diciamo, avviene in memoria a breve termine e ci permette di far sì che il soggetto percepisca la rilevanza e la significatività del contenuto che sta imparando. Ce lo siamo detti tante volte durante il nostro percorso, nessuna mente è in grado di immagazzinare un'informazione che non ritiene significativa e rilevante per se stesso e quindi non gliela può dire qualcun altro, nessun altro può dire la rilevanza che ha un contenuto perché è un fatto assolutamente soggettivo e quindi è importante mettere lo studente nelle condizioni di elaborare attivamente il contenuto sia per consolidarlo ma anche per farli ricercare attribuzione di senso e attribuzione di significato. Il retrieval, abbiamo detto che possiamo già richiamare informazioni e il transfert ad applicarli in un altro contesto. Ecco, queste metodologie così complete come queste illustrate nella slide in qualche modo permettono di attivare tutti e tre i processi che abbiamo descritto e che, come abbiamo detto, sono un po' la benzina per il motore della neuroplasticità così importante per creare chiamiamola così come intelligenza comunque per creare connessioni neurali e cerebrali che permettono appunto plasticità neuronale. Bene. Beh, volevo aggiungere una cosa molto rapida. Allora, la prima e tanto per ricordarci appunto dell'impianto pedagogico precedente a che poi aveva rilevato la presenza del transfert lo chiamò bridging cioè qualcosa che fa da ponte tra quello che impara in un contesto specifico come per esempio l'apprendimento formale a scuola e quello che invece riesco effettivamente a trasferire nella vita e nel mio vissuto quotidiano e poi volevo anche sciogliere un misandertenne con fraintendimento che mi è capitato spesso di ascoltare tra transfert e transfert che sono due processi completamente diversi il transfert di cui stiamo parlando è un processo cognitivo intenzionale complesso mentre il transfert è un processo che appartiene a un'altra branca della conoscenza che è la psicanalisi ed è un processo di trasposizione inconsapevole laddove si trasferiscono degli impianti legati al mondo dei sentimenti delle emozioni da una persona ad un'altra quindi è tutto un altro tipo di processo e di lavoro grazie Dani grazie per questa precisazione quindi ci abbiamo a concludere così abbiamo qualche minuto per le domande se ce ne sono per l'interazione allora concludendo il nostro cervello lo possiamo immaginare come un cercatore non d'oro ma di schemi abbiamo visto come nel webinar precedente come questi schemi siano questo processo di confronto tra la nuova informazione e uno schema preesistente avviene nell'ippocampo e dunque è importantissimo come docenti che inseriamo i nostri discorsi i nostri contenuti all'interno di un framework concettuale molto chiaro e molto ben definito diversamente come si dice è come se una nave fosse in balia del vento senza avere una direzione chiara esattamente così si potrebbe comportare anche il nostro cervello se non intravedesse in qualche modo il percorso gli obiettivi e il percorso entro il quale muoversi quindi è importantissimo definire il framework concettuale di riferimento e dare indicazioni molto chiare di obiettivi e di percorso agli studenti è altresì molto importante ce lo siamo detti creare collegamenti col mondo reale abbiamo appena finito di parlare di PBL e di inquairi ovviamente perché l'attribuzione di significato è veramente importantissima e su questo abbiamo già detto tanto questo invece ce lo inseriamo qui cioè l'importanza della metacognizione quindi di stimolare sempre gli studenti a riflettere non solo sul loro prodotto quindi su come hanno fatto ma anche sul loro processo di apprendimento sul loro successo sul loro insuccesso su che cosa fare per migliorare oppure su che cosa hanno sbagliato quindi su cosa devono intervenire ancora utilizzate spesso domande aperte non solo crocette credo che sia abbastanza banale dirlo ma ci teniamo a sottolinearlo perché il pensiero divergente e le abilità di pensiero elevato per intenderci livelli tassonomici di bloom più in alto nella piramide sono sicuramente stimolati dalla sollecitazione di domande aperte piuttosto che domande chiuse se assegnate dei compiti incoraggiate sempre gli studenti a fare analogie e applicazioni in differenti contesti ricordate quindi sempre di dedicare tempo alla chiusura della lezione perché la chiusura è un momento in cui davvero si potrebbe dedicare tempo al retrieval al reforzol e al transfert con questo vi ringraziamo per l'attenzione e credo che ci rimanga un po' di tempo per qualche domanda chi le ha raccolte di voi non so ad un po' di domande abbiamo risposto in itinere quindi diciamo le perplessità di alcuni erano su quanto diciamo questi strumenti che utilizziamo anche giochi digitali siano effettivamente produttivi per esempio qua c'era la collega Giulia che parlava delle lezioni in inglese a prescindere da questo dice se non studiano le regole la lingua non le imparano questa è un po' è la preoccupazione di molti impegnanti però magari qualcuno di voi può rispondere nel webinar precedente parlavamo di motivazione se non c'è un gancio se non li agganciamo da qualche parte e solo scendendo anche su un terreno comune motivazionale dove loro possono ritrovare qualche interesse sarà poi difficile anche portarli a studiarle queste regole perché se no diventa un apprendimento molto passivo cosa che non esclude assolutamente lo studio anche di cose meno avvincenti e meno coinvolgenti certo se finalizzate però Daniela intendiamo se finalizzate che lo studente come dire lo studente deve capire il fine di imparare quelle cose che non deve essere proprio fine a se stesso ma deve esserci una motivazione cioè è importante che io che ne so sappia i simboli dei composti chimici perché quello capisco che a livello di nomenclature di come dire comunicazione generale è importante che tutti capiamo quando parliamo di NACL che cos'è come funziona che cosa serve quindi inquadrarlo in un determinato contesto e quindi imparare anche rutinariamente alcune regole alcuni concetti è certamente importante e lo studente deve percepire però il senso di fare questo se no decade esatto allora non so se ci sono se avete letto altre domande ci chiedono naturalmente riferimenti ma li abbiamo già dati rispetto ai codici delle classroom a dove recuperare i materiali abbiamo già detto che questo percorso solamente che impare sul lesson plan sono seguiti il percorso potete seguirlo anche attraverso una google classroom dentro la quale naturalmente curiamo contenuti vi proponiamo nuovi strumenti anche nuove modalità di confronto una sorta di peer tutoring tra di noi insomma per arrivare a sperimentare un po' qualcosa di nuovo ma c'è anche una sfida perché c'è una sfida sulla quale noi vi vogliamo portare che è la sfida della costruzione di un lesson plan da poter poi condividere quindi su questo avete anche proprio un impegno vi vogliamo portare sulla motivazione quindi proviamo a coinvolgervi in questo modo naturalmente c'è anche il canale youtube dove potete poi recuperare i webinar ma tutti questi materiali li troverete sicuramente compresa questa presentazione nella google classroom dedicata il codice l'abbiamo diffuso tramite la Q&A ok ci sono un altro paio di domande sulla parte diciamo un po' più viene chiesto quanto interviene la metacognizione e l'aspetto emotivo sull'efficacia dei processi di transfer e retrivo faccio giusto un aggancio a un webinar precedente in cui parlavamo della rilevanza dell'aspetto emotivo sull'acquisizione dell'informazione dicevamo insieme soprattutto Beatrice dicevamo che le emozioni possono agire veramente quasi come un filtro come uno shutter sulle nuove informazioni una delle emozioni particolarmente forti in senso negativo possono possono completamente inibire l'acquisizione di nuovi apprendimenti quanto invece incidano sulla parte dopo sulla parte diciamo del richiamo delle informazioni questo è molto meno ben studiato c'è uno studio abbastanza recente molto recente del 2019 che indaga in che modo in certi neurotrasmettitori come la dopamina che proviene da un sito specifico del cervello abbiano associano dei valori emotivi anche alle memorie che sono state immagazzinate e che quindi delle memorie che sono associate per esempio ad altri livelli di arousal o comunque ad un contenuto emotivo forte possano essere reclutate più facilmente quindi come per tutto quello che abbiamo visto finora sembra anche in questo caso che anche il richiamo di informazioni precedenti dipenda dallo stato emotivo nel momento in cui l'informazione è stata in cui quel nuovo apprendimento è stato generato che è un altro modo per permettermi di reiterare ancora una volta quanto l'aspetto emotivo incida in ogni fase dell'apprendimento e quanto sia essenziale che gli studenti ma chiunque apprende sia messo nelle condizioni in un ambiente emotivo favorevole e che questo abbia un impatto assolutamente duraturo sull'apprendimento che può praticamente durare tutta la vita altre domande se non c'è altro possiamo accadirci alla conclusione dicemi voi non le vedo volevo solo dire una cosa che non è non è molto neurofientifica ma forse è pedagogica riguardo allo zoccolo duro che non si fa scalfire io credo che li possiamo sorprendere con un'azione di fiducia nel sfidarli dicendo per me ce la puoi anzi ce l'hai fatta dimostramelo è chiaro il discorso delle aspettative delle credenze dicevamo l'altra volta quanto è importante per uno studente sentirsi accudito diremmo ma che vuol dire in un senso molto ampio del termine sentirsi appoggiato sentirsi riconosciuto sentirsi valorizzato queste sono tutte cose che passano con una comunicazione non verbale ma passano tantissimo e quindi è assolutamente fondamentale quello che dici Laura è fondamentale tra l'altro ognuno ha i suoi tempi nel senso che magari un'attività non è detto che abbia un effetto immediato tra l'altro far lavorare gli studenti insieme crea anche un flusso un flusso anche emotivo quindi il benessere che magari ha provato uno studente si può trasferire all'interno di un gruppo che lavora insieme così come purtroppo accade anche il contrario se l'esperienza non è stata un'esperienza positiva poi si testimonia un'esperienza che ha un flusso anche sugli altri perché credo che noi anche da studente abbiamo sperimentato i nostri fallimenti legati magari a dei rifiuti a delle mancanze di fiducia insomma ciascuno di noi credo abbia la sua piccola storia di scatto apprendimento in un certo momento della propria vita quindi insomma ricordiamocela ecco se la mettiamo un po' davanti alla memoria forse abbiamo un po' più di efficacia con quegli studenti che ci sembrano restringenti rispetto a tutti i tentativi di coinvolgere i percorsi di apprendimento assolutamente va bene allora se non c'è altro vi ringraziamo ancora per la partecipazione e vi aspettiamo lunedì appuntamento lunedì però cambia l'orario 18.30 quindi è un po' più tardi ricordatevelo vi arriverà comunque la notifica sicuramente però cambiamo l'orario e questa volta sarà un lesson plan in modalità sincrona quando il docente è offline quindi come strutturare una lezione secondo i principi delle neuroscienze ma in modalità sincrona vi ringraziamo e grazie grazie a tutti grazie e alla prossima ciao ciao grazie di aver partecipato ciao